Dunque, missione compiuta. Olbia travolta 4-0 nell'avverdetto finale dopo la cinquina di Pontedera. Altra vittoria demordante senza subire gol. La continuità paga sempre. Fondamentale vivere alla giornata cercando di migliorare costantemente. Superiorità schiacciante quasi irridente. In campo tra Pescara e Olbia sembrava ci fossero almeno due categorie di differenza. Gli esami, è vero, non finiscono mai ma nell'area si avverte la sensazione che il peggio sia davvero passato. Di certo è cambiato l'atteggiamento. Pescara più sciolto, soprattutto sereno, libero mentalmente e difende molto meglio. Nelle ultime quattro partite, Coppa Italia compresa, altrettanti successi e appena un gol subito a Chiavari con Zeman. Probabilmente una rarità. La fase difensiva è migliorata. Squadra più corta e compatta. Gli attaccanti sono i primi a lavorare con profitto. Con Pellacani la linea difensiva. Tende ad accorciare in avanti. Prestazioni individuali. Bene da gasso in cabina di regia. È stata la novità sostanziale. Malgrado la giovane età, appena 19 anni, il centrocampista Biancazzurro sa stare in campo. Non eccede in tocchi inutili e sa giocare sia sul corto che sul lungo. In sintesi, schematico e essenziale. A nostro avviso, meglio da Play che da Mezzala. Squizzato e avvisato. Grande protagonista Luigi Cuppone. Un gol di testa meraviglioso. Taglio sul primo palo. Torsione frustata da centravanti di razza. Ma anche un assist per il 4-0. Firmato da Aloy. E poi la consueta generosità. Soprattutto il solito movimento ad allungare la squadra avversaria. Quello che piace a Zeman. Nel 4-3-3 farebbe fatica a giocare sulla catena. Come vuole il Boemo. Da riferimento centrale, Cuppone offre invece il meglio di sé perché può attaccare la profondità e creare spazi per l'inserimento dei compagni di squadra. Dal punto di vista realizzativo, l'attaccante Salentino è salito a quota 8 reti. Coppa Italia compresa. Ben 4 consecutive. Tutt'altro che convincente, a prescindere dal gol, la prestazione di Tuniov non sembra avere caratteristiche adatte al calcio di Zeman. Ha una qualità spiccata per la categoria, ma non la propensione a giocare senza palla. Un limite sul quale l'Estone dovrà lavorare. Perché qualità e cifra tecnica sono importanti, ma non bastano. Specie in C. Mercoledì prossimo tornerà la Coppa Italia per i quarti di finale in gara secca Pescara di Scena a Catania. Inizio ore 20.30. Diretta su Rai Sport. In caso di parità al novantesimo, supplementari e eventuali calci di rigore.